Ma un po' più piano no? Ma che stiamo all'una parca? Ma come c'è finito qua? Eccolo Jacopo! Ancora questo Jacopo! E mi sono arenato! Ora ti salviamo noi! Che fai che tocchi? A mancela ti impara a navigare che ti conviene? Con l'internet mobile di team, navighi per 40 ore al mese a soli 5 euro! Oh ma che fate? Veni andate! Rimani qua e non ti muovi! Ma qui è parlo di hai mani! Non c'è la confidenza! Ma sarà periodoso! Mamà! Ma se gli tira un bastone me lo riporta!